Ci siamo, in questo fine settimana ci sarà l'ultimo Gran Premio prima della pausa estiva in Belgio, a Spa, e voglio iniziare questo video dicendovi subito una notizia molto importante. Infatti è molto probabile che Verstappen sconterà 10 posizioni di penalità in griglia, perché andrà a sostituire la Power Unit facendo la canonica rotazione dei motori che si fa durante l'anno. E vi starete chiedendo, ma perché lo fa proprio nel Gran Premio del Belgio? Beh, perché è un Gran Premio dove è facile sorpassare. Anche se partirà decimo potrà rimontare e puntare al podio. Anche se, secondo me, se dovesse scontare questa penalità non riuscirà a lottare per la vittoria, perché attualmente McLaren è troppo superiore. E l'altro motivo è che dopo la pausa estiva c'è il Gran Premio d'Olanda e Verstappen vuole avere una Power Unit fresca per il suo Gran Premio di casa per lottare per la vittoria. Ma in questo video dobbiamo parlare anche di come si sta preparando Ferrari per il Gran Premio in Belgio. Infatti è stato confermato il fondo evoluto di Ungheria e Ferrari porterà anche delle modifiche di microaerodinamica nella zona del marciapiede. Ma ora andiamo a approfondire tutto nel dettaglio, vi dico le caratteristiche tecniche del tracciato, gli orari, andiamo a vedere gli aggiornamenti dei team e chi è favorito e chi lo è meno. Ovviamente a fine video parleremo anche della notizia di Binotto che torna in Formula 1. Infatti andrà a lavorare per Audi, ma dopo ci arriviamo. Perché voglio sbilanciarmi anche su questo. Prima di continuare ditemi nei commenti cosa ne pensate del ritorno di Binotto in Formula 1. Come vedete questo weekend in Belgio, chi è favorito e chi lo è meno. Ma soprattutto sono curioso di sapere secondo voi se Verstappen può lottare per la vittoria anche con la penalità. Oppure se vedete più favorito un altro team. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi, attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana vi tengo aggiornati su tutte le notizie a tema auto e Formula 1. Prima di continuare però, lo sai che puoi guardare la Formula 1 gratis e in diretta? Sì, non sto scherzando, ti basta andare sul canale della RSI, ovvero della televisione svizzera. Dove trovi tutti i contenuti registrati sulla Formula 1, che puoi guardare quando vuoi. E ogni sessione la puoi vedere in diretta. Il punto è che noi dall'Italia non possiamo guardare la RSI, quindi ci serve un VPN. Per questo ho deciso di sponsorizzare CyberGhost VPN, che secondo me è il miglior VPN in circolazione. E collegandoti al server svizzero potrai accedere al canale della RSI e quindi guardare la Formula 1 in diretta gratis. Ma non solo, avendo CyberGhost VPN puoi accedere a tutti i suoi vantaggi, che ti permette di proteggere la connessione, accedere a sconti esclusivi quando viaggi, per avere il miglior prezzo in hotel e voli, e anche guardare le tue serie preferite che magari sono disponibili solo in America. E tutto questo avendo una VPN che costa appena 2 euro al mese per il piano biennale. Stiamo parlando di 24 euro all'anno, il costo di una cena fuori, per proteggere la tua connessione per 365 giorni e guardando la Formula 1 gratis. Più di così, cosa vuoi? Ti lascio il link in descrizione e nel primo commento con la mia offerta esclusiva, che ti permette di avere anche 4 mesi gratis aggiuntivi. E non dovete preoccuparvi, perché CyberGhost VPN potete provarlo per 45 giorni, con la garanzia soddisfatti o rimborsati. E quindi usate il servizio senza rischi. E vi starete chiedendo, perché ho deciso di sponsorizzare CyberGhost VPN? E magari non un'altra VPN che c'è in giro. Perché CyberGhost VPN ha un punteggio su Trustpilot di 4.9 su 5. Quindi ha delle recensioni super positive e la gente parla bene di questo servizio. Ma non solo, ha anche più di 38 milioni di utenti attivi nel mondo, in 11.000 server in 100 paesi diversi. Con un solo account puoi usare CyberGhost VPN su 7 dispositivi diversi contemporaneamente. Quindi puoi condividerlo in famiglia e risparmiare. Ma non solo, è disponibile su Windows, Mac, iOS, Android, Linux e sulle console di gioco. E come detto, prima ti permette di guardare più di 40 piattaforme di streaming diverse, con contenuti che magari non sono disponibili in Italia, su Hulu, Amazon Prime, Disney+, BBC iPlayer e tanto altro. Insomma, provate CyberGhost VPN, proteggete la vostra connessione quando utilizzate un wifi pubblico e così facendo potrete accedere anche gratis ai contenuti della Formula 1, guardandoli sul canale della RSI. Ditemi come vi trovate nei commenti che io mi sto trovando benissimo, ma sono curioso di sapere la vostra opinione, che è quella più importante per me. Perché ci tengo a sponsorizzare solamente prodotti di qualità. Detto questo, torniamo a noi. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, dove mi chiamo Il Rastro e dove pubblico contenuti a tema automotive. Ma ora iniziamo subito con questo pre-GP del Belgio. Sarà la quattordicesima gara del calendario e per Ferrari è un layout che non è facilissimo, perché sono tante curve veloci, pensiamo a Radion, pensiamo a L'O Rouge, che si fanno in pieno, ma al tempo stesso c'erano anche tanti rettilinei, c'è la bus stop che è un tratto lento, ci sono tanti saliscendi in Belgio. Insomma, la pista di Spa-Franco-Sham sulla carta non è una pista favorevole a Ferrari. Ma sarà importante vedere se la rossa ha trovato il giusto compromesso aerodinamico, sia sul bilanciamento da monoposto, e andremo a vedere dove andrà più forte Ferrari, se andrà forte nel primo e terzo settore, che sono più scarichi, oppure nel secondo, che è un settore più guidato, e avremo una conferma ulteriore se il nuovo fondo evoluto ha risolto i problemi del bouncing, di cui Ferrari si è tanto lamentata a Silverstone. Abbiamo visto qualche problema anche in Ungheria, specialmente nell'AFP2, dove Leclerc ha commesso un errore in curva 4, che è una curva molto veloce, e dove a centro curva è mancato del carico aerodinamico, e ciò ha comportato al testa coda della SF24. E quindi è inevitabile, a Spa bisogna decidere in che direzione andare, se avere una vettura un po' più carica che paga qualcosa di più nei rettilinei, o se avere una vettura più scarica che però fa più fatica nelle curve. Secondo me Ferrari andrà nella direzione di un assetto più scarico, andando a privilegiare i rettilinei e potendosi difendere anche in gara, anche perché sulla gestione delle gomme Ferrari è ottima, quindi è vero, ci sarà il nuovo asfalto a Spa, e questo è un punto importante, perché andrà a aumentare il grip e quindi il degrado delle gomme, oltre a esserci un degrado termico, ma Ferrari con la SF24 è molto forte su questo punto, quindi riesce a gestire bene le gomme, ma manca un po' di carico aerodinamico in generale. Abbiamo visto come in Ungheria ha scelto un assetto un po' più carico, andando a pagare maggiormente su rettilinei, anche perché contava di più la velocità in trazione, e quindi anche l'energia del motore ibrido veniva usata in uscita di curva, sarà interessante capire quale sarà la direzione che seguirà Ferrari a Spa, e se il nuovo fondo darà i risultati sperati. Sappiamo anche che verranno portati dei piccoli aggiornamenti di micro aerodinamica, nella zona del marciapiede. Quindi Ferrari sta continuando a lavorare a Maranello, i dati raccolti dello stint fatto dalle clerche con Gommard in Ungheria, hanno dato i risultati sperati, e Ferrari dopo la delusione degli aggiornamenti di Spagna sta crescendo piano piano. Sicuramente le vere novità arriveranno dopo la pausa estiva, però già qui a Spa vedremo se Ferrari avrà intrapreso la direzione giusta, per cercare di portare a casa a fine anno il secondo posto nei costruttori. Ma prima di andare a vedere anche come gli altri team si stanno preparando per Spa, andiamo a vedere un po' di caratteristiche del GP del Belgio. La pista è lunga 7.004 metri, è il circuito più lungo del calendario, infatti ci saranno pochi giri di gara, in totale 44. La distanza totale della gara è di 308.52 km, e il giro record in gara l'ha segnato Valtteri Bottas nel 2018 in 1.46.286. Si porteranno le gomme C2, C3, C4, quindi le mescole intermedie di Pirelli, e attenzione al degrado gomme che sarà superiore all'anno scorso, avremo anche i tempi più veloci, perché abbiamo visto quest'anno con la 24 ore di Spa, dove Pirelli ha potuto testare le sue gomme, per esempio sulla Porsche GT3, beh, quest'auto ha girato 3 secondi più veloce rispetto all'anno scorso, con i tempi da qualifica. Quindi attenzione che anche le vetture di Formula 1 andranno molto più veloce, magari si potrà battere il record di giro più veloce in gara, ma ci sarà anche molto più degrado, oltre al degrado termico, però questo è in forse, perché dovrebbe piovere sia venerdì che sabato, e quindi le temperature saranno abbastanza basse, attenzione a quanto drenerà l'asfalto, perché abbiamo già visto in passato episodi dove la gara di Spa era saltata, e non vogliamo che si replichi una situazione del genere, fatto sta che dovrebbe piovere venerdì e sabato, e non la domenica, che dovrebbe essere nuvoloso. Però questo complica ancora di più la vita ai team, perché dovranno scegliere un assetto forte sul bagnato per le qualifiche, ma al tempo stesso un assetto che vada bene anche in gara sull'asciutto. Certo, se bisogna scegliere tra le due sessioni, è meglio privilegiare la gara che le qualifiche in Belgio, essendo una pista dove i sorpassi sono facili da fare. E quali sono gli orari del weekend? Le prove libere 1 saranno venerdì alle 13.30, le prove libere 2 alle 17, le prove libere 3 saranno sabato alle 12.30, le qualifiche alle 16 e la gara sarà domenica alle 15. Quindi sono i soliti orari europei. E proprio per questo motivo, come vi dicevo anche prima, Verstappen probabilmente sconterà 10 posizioni in penalità in griglia, andando a sostituire la Power Unit, smarcando la quinta Power Unit dell'anno, e quindi partirà 11, 12, 13 in griglia, e sarà costretto a rimontare. Non avrà vita difficile per questo, perché secondo me Aspa è facile sorpassare, e già gli scorsi anni Red Bull ha attuato questa strategia, però Verstappen realisticamente lotterà per il podio, e non per la vettoria, dove vedo candidato numero 1, McLaren, che è vero, pagherà un po' di drag nei rettilinei, e quindi quello può essere il suo punto debole. Però abbiamo anche visto che nelle curve veloci va davvero forte. Nel secondo settore di Ungheria faceva la differenza su tutti gli altri, ed era in curve da media velocità. Quindi anche Aspa potrà fare la differenza, forse sarà un po' mangiata dal drag, nel senso che perderà un po' nel primo e terzo settore. Bisognerà vedere quanto perderà nel primo e terzo settore, in relazione a quanto guadagnerà nel secondo. E attenzione che è vero, abbiamo visto nell'ultima gara una McLaren molto forte in qualsiasi tipologia di layout. E ve l'ho detto più volte, McLaren è la macchina migliore in questo momento. Ma al tempo stesso abbiamo visto, se vi ricordate, a Miami, che è una pista con lunghi rettilinei, che alterna invece delle sezioni più lente, una McLaren molto forte come velocità di punta, puntando su una B-Wing da medio carico, e in questo modo potrebbe compensare la vettura che di base genera tanto carico. L'efficienza aerodinamica sarà fondamentale a Spa, e quindi vedremo anche per questo motivo una Asse molto forte, che di solito va forte nelle piste con basso carico. E dopo la gara in Ungheria, è stato vietato a Vestappen di fare sessioni notturne di sim racing. Questo è quello che ha detto Helmut Marko, che ha visto il pilota olandese troppo nervoso in gara, forse anche a causa delle poche ore di sonno che ha avuto. Anche Aimo l'aveva fatto la stessa cosa, stando sveglio fino alle 3 di notte, poi la gara l'aveva vinta il giorno dopo, però Helmut Marko ha detto che da ora in poi saranno più attenti a vedere cosa fa Max la notte, per evitare che si impegni un po' troppo al sim racing, per poi sottovalutare la gara e non riuscire a rendere in pista. E al tempo stesso essendo ingestibile, come è successo nei team radio durante la gara in Ungheria. E attenzione che il comportamento di Max non è neanche piaciuto a Mercedes, e questo potrebbe farlo riflettere anche se lui volesse cambiare team in futuro, perché Toto Wolf non ha apprezzato il suo suo comportamento da bambino che ha mostrato in Ungheria. Ma quindi in quale vettura farà la differenza in quale settore? Probabilmente Red Bull e McLaren andranno più forti nel secondo settore, soprattutto se confrontiamo questi due team a Ferrari e Mercedes, che invece faranno un po' più di fatica in quel settore lì, andando più forte magari nel primo e terzo, che sono settori dove conta avere una buona efficienza. Questo anche perché Ferrari ha mostrato dei limiti nel generare carico rodinamico al posteriore, con il nuovo fondo evoluto di Ungheria, che cerca di risolvere i problemi accusati in Spagna, si cerca di massimizzare il carico al posteriore, e verrà modificato anche il marciapiede esterno, per cercare di isolare maggiormente quella zona, creare una zona di alta pressione, e gli ingegneri vanno anche a irrigidire di più le sospensioni al posteriore, per cercare di avere un carico più stabile. C'è da dire che gli altri team fanno la differenza come carico al posteriore, grazie alla sospensione push road, che permette di avere un livello di efficienza e di carico diverso. Mentre Ferrari quest'anno ha scelto la sospensione pull road, come negli scorsi anni, dando continuità al progetto della SF23 sotto questo punto di vista, e ad oggi non sta ripagando questa scelta. Probabilmente l'anno prossimo cambieranno sospensioni, però ad oggi sulla SF24 vista la sospensione pull road al posteriore, bisogna fare dei compromessi maggiori rispetto agli avversari, e quindi bisogna trovare il giusto bilanciamento tra le curve lente e le curve veloci. Ma Ferrari dov'è che fa la differenza? Beh, in ingresso di curva, questo sicuramente, in frenata e in percorrenza tende ad avere un po' troppo sovrasterzo, che in alcune situazioni è utile far ruotare maggiormente la vettura, in altre situazioni rende la monoposto più inguidabile. Vedremo se il reshaping del fondo sarà efficace anche in Belgio, è stato confermato su entrambe le vetture, prima c'era il dubbio di portarlo solamente su una delle due, e sull'altra fare un test, ma Ferrari ha confermato che entrambi i piloti useranno il nuovo fondo. Il punto critico che Ferrari dovrà risolvere è il gestire le diverse altezze a terra. Infatti essendoci tanti saliscendi in Belgio, nelle diverse curve c'è anche un'altezza a terra diversa, e questo comporta che si genera più o meno carico. La SF-23 su questo aveva fatto tanta fatica l'anno scorso, vedremo come si comporterà la SF-24, che nella gara in Ungheria abbiamo visto avere un walking range un po' più ristretto. Infatti è vero, Leclerc volava con gommard, ma appena ha montato la gomma media ha fatto più fatica, anche nella sua gestione. È vero, ha dovuto fare tanti giri con quella mescola, però abbiamo visto una SF-24 efficace con una gomma e non con l'altra, e questo è un campanello d'allarme. Attenzione che in Belgio ci saranno anche delle temperature diverse, probabilmente farà più freddo i primi due giorni, il venerdì e il sabato, mentre la domenica farà un po' più caldo, e questo andrà a incidere anche sulle performance della SF-24, perché abbiamo visto quest'anno, quando c'è un asfalto freddo e scivoloso, fa molta fatica. Quindi sicuramente Spa sarà un severo banco di prova per la SF-24, che se dovesse andare bene sarà terza forza, però ad oggi sulla carta se mi diceste di sbilanciarmi, beh, la metterei quarta forza. Ma ovviamente non voglio fare il disfattista, e spero che Ferrari riuscirà a far meglio. Per Ferrari sarà fondamentale anche controllare il bouncing nelle curve veloci, perché quello è un punto che è emerso dopo gli aggiornamenti di Spagna, e vedremo se sarà stato finalmente risolto con il fondo evoluto. Ma dobbiamo parlare della notizia calda di questi giorni, ovvero che Binotto torna in Formula 1, in Audi. Andrà a sostituire Andrea Seidel e Oliver Hoffman, e quindi dal primo agosto Binotto avrà il ruolo di direttore operativo e direttore tecnico in Sauber, che poi diventerà Audi. Questa decisione l'ha voluta Gernot Dolner, che è il CEO di Audi, che ha detto che vuole una figura di esperienza, e Binotto questa ce l'ha a vendere, perché da 25 anni in Formula 1 ha lavorato tanto in Ferrari, ed è ex team principal, e vogliono agire in modo indipendente e rapido, con delle decisioni prese in maniera efficiente. Questa è la volontà del CEO di Audi, ora vi dico anche la mia. La valutazione sull'operato di Binotto come team principal, per me è molto negativa. Infatti vi ho detto che secondo me, in Ferrari ha fatto più danni che altro, non riuscendo a reclutare ingegneri importanti dall'estero, portandoli in Italia, ma puntando su una riorganizzazione interna. Non è riuscito a gestire in maniera adeguata i piloti, soprattutto nei momenti caldi della stagione, e ha avuto un rapporto con i media e la stampa, tutt'altro che idilliaco. Quindi come figura che deve gestire il team, Binotto non è la persona giusta, secondo me. Al contrario, come direttore tecnico ha fatto un buon lavoro negli anni, ed è sicuramente una figura d'esperienza. Quindi in Audi può far comodo? Beh, sicuramente essendo un nuovo team, sì, può far comodo una figura come Binotto. Però secondo me è ancora presto per dire se potrà far la differenza o meno. Ad oggi il mio bilancio è più negativo che positivo sul suo operato, anche perché io ero uno di quelli che voleva fortemente Vasser come team principal in Ferrari, proprio perché nell'ultimo periodo Binotto non aveva più quell'autorevolezza necessaria per essere team principal di Ferrari. Vedremo se ce l'avrà in Audi, dove non sarà team principal, ma direttore operativo e tecnico. Ditemi anche la vostra opinione sul ritorno di Binotto in Formula 1, in Audi. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti quanti, e ditemi anche chi è favorito in Belgio. Vedete una Ferrari che può lottare per il podio? Secondo voi Vestappen riuscirà a rimontare, lottare per la vittoria? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Come sempre, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi, di attivare le notifiche, per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi video a tema auto e Formula 1. Qui da Rasta è tutto, ci vediamo a un prossimo video.